Faffagioli al centro, il colpo di testa di Gatti, si gioca però il pallone, il colpo di testa di Ocampos, una gran risposta di Szczesny, fantastica! Tanto in verticale, Di Maria per Ken, scappa Ken, Ken! Il palo non è finita! Rabiot a campo, se lo vuole prendere tutto, Rabiot entra in area, Rabiot, Rabiot! Incrocia con il mancino, pallone fuori di centimetri! Quella controllata là, Rabiot per Vlaovic, scappa Vlaovic, Vlaovic! Vlaovic! Dujan Vlaovic! Un ingresso in campo da Sogno al 65esimo, siamo avanti noi! Rabiot vede Vlaovic che riesce a saltare Badet poi, che freddezza davanti a Bono con il sinistro, un tocco meraviglioso! Guardate qui, che lucidità! Appena entrato! La mela che va giù, attenzione a Suso, Suso con il sinistro! 1-1, pareggiato il Sibiglia al 71esimo minuto. Allora Suso, se la mette sul sinistro, il pallone verso il Nesiri! Che cosa ha fatto Szczesny? Fantastico, ancora una volta Tech! Finisce qui, ma non del tutto, 1-1 dopo i 90 minuti regolamentari. Danilo va a cercare Chiesa, 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 Chiesa! Bono in due tempi! Che opportunità colossale per la Juve! Traversone al centro, il colpo di testa! Il vantaggio del Sibiglia con la mela. Ma finisce qui, finisce al 124esimo con il Sibiglia che vola in finale di Europa League.